Soltanto un leggero slittamento di 24 ore ma nulla di cui temere. Stamattina si sono dovuti completare alcuni passaggi burocratici, ecco perché il cantiere del centro autismo di Rione Valle riaprirà domani mattina, come ci conferma anche l'assessore ai lavori pubblici del comune di Avellino, Costantino Preziosi. Domani si inizia con un po' la pulizia dell'area, perché comunque il cantiere è stato fermo da un anno e mezzo, quindi ci sono un po' di erbacce e tutto, poi penso che poi nei prossimi giorni si avrà la ripresa vera e propria con le lavorazioni che restano per poi completare il centro per l'autismo. Un intervento previsto di 300-400 mila euro, dopodiché si aspetta che anche la Regione faccia la parte di sua competenza per completare i lavori all'esterno della struttura. Io penso che nel giro di due o tre mesi la struttura la riusciremo a terminare, però poi dovremo fare un altro sforzo pure con la Regione per chiedere un'altra minima somma per poter sistemare l'esterno, quindi per poter dare poi l'opera compiuta, perché con questo intervento per quanto riguarda la sistemazione esterna faremo pochino. Era la notizia che i ragazzi autistici e le loro famiglie aspettavano con ansia, protagonisti incolpevoli di rimpalli burocratici e ritardi delle istituzioni competenti stanno penando da anni per poter usufruire di una struttura che si preannuncia di eccellenza nel panorama della sanità nell'intero meridione d'Italia. Speriamo davvero questa sia la volta buona.